Allora siamo entrati in esclusiva nel banco prova di RMU e parliamo con Alessandro dell'evoluzione della moto 2015 parlando appunto della moto 3. Essendo un progetto nuovo abbiamo lavorato tanto, abbiamo creato una moto che ci permettesse appunto per svilupparla di fare tanti cambiamenti di geometrie, di bilanciamenti, di spostare i pesi, quindi abbiamo lavorato tantissimo, ci siamo fatti tante esperienze e questo ci è servita molto anche per appunto sviluppare la moto 2016 con tutte le evoluzioni che abbiamo fatto, diciamo che abbiamo veramente provato di tutto quest'anno, da l'inclinazione all'avancorsa, al pivot, alla lunghezza della moto, abbiamo proprio, l'abbiamo sfruttata questa stagione qua per capire bene dove lavorare per l'anno 2016 e invece le cose che possono andare bene le abbiamo mantenute e questo ci ha permesso appunto di crescere tanto. La moto durante la stagione è cresciuta sia dal punto di vista ciclistico che dal punto di vista delle prestazioni del motore, abbiamo lavorato tantissimo dal punto di vista del motore, abbiamo fatto cam, lavorato teste, fatto marmitte, abbiamo veramente fatto di cambiare i volumi degli airbox, i passaggi dell'aria, abbiamo, diciamo che è stato un anno veramente intenso da questo punto di vista abbiamo dedicato una quantità di ore importante per farla crescere. Già comunque alla prima uscita abbiamo capito che la moto era nata bene perché a Misano la prima gara eravamo già sul podio della prima gara, poi ci sono stesi, è andata così, però eravamo già lì davanti, abbiamo fatto il giro veloce della gara, quindi siamo partiti già subito forte. Il crescere, far crescere la moto è complicato con dei ragazzi giovani perché fanno più fatica a darti delle indicazioni, quindi abbiamo dovuto lavorare molto con la telemetria a capire noi le cose e ci vuole anche più tempo a far così. Quindi moto nuova, ragazzi giovani è stato tosto, è stato tosto, però è stato molto bello. Allora Alessandro abbiamo parlato della moto 2015, della sua evoluzione, parliamo un attimo della moto 2016 e di che cosa stai facendo di là. Diciamo che le cose principali sono un nuovo forcellone con la carpiata sotto e non sopra per un motivo più che geometrico di spazi, perché stiamo facendo una nuova testa e abbiamo bisogno di uscire con gli scarichi nella parte alta e con l'ammortizzatore così alto non c'è proprio lo spazio fisico, quindi abbiamo dovuto abbassare tutta quella parte lì, quindi il forcellone è completamente diverso. Abbiamo fatto una nuova parte frontale con delle geometrie diverse e abbiamo rifatto l'airbox e il serbatoio. L'airbox per una questione di volumi, perché abbiamo fatto, sempre sviluppando sul banco, abbiamo visto che avevamo bisogno di altri volumi e quindi l'abbiamo cambiato. Il serbatoio sempre per il discorso degli scarichi, perché per far passare gli scarichi dove devono passare abbiamo dovuto modificare anche il serbatoio, quindi di conseguenza stampi del serbatoio, stampi dell'airbox, stampi del forcellone, sono tutte queste cose che alcune sono già state realizzate, altre le stiamo proprio facendo in questi giorni e nell'arco di 20 giorni dovrebbe essere finita, completa la 2016. Senti, mi chiedi che ha cambiato il forcellone, quindi è girato, ma è cambiato anche il figo e quindi la distribuzione dei pezzi, della moto? Allora, siccome il link funzionava bene, l'abbiamo cambiato per questioni di posizione, ma tenendo la stessa progressione e la stessa geometria, quindi da quel punto di vista lì non l'abbiamo cambiato perché funzionava bene. Abbiamo fatto una decina di link durante questo anno e questo è quello che ha dato i migliori risultati e da quel punto di vista lì non l'abbiamo cambiato. Abbiamo solo cambiato l'alloggiamento per una questione sempre di spazi e di ingombri, ma il processo è lo stesso perché lì funzionava bene. Diciamo che i ragazzi adesso che stanno crescendo, ci sono dei piloti italiani e li vedremo nei prossimi anni che ci daranno delle soddisfazioni. Io penso che invece i tecnici sono sempre quelli ottimi, bravissimi, perché abbiamo dei tecnici super, però non c'è il ricambio generazionale e noi vogliamo creare anche questo qua appunto, il pilota che inizia a crescere con il suo tecnico e faranno un percorso, speriamo che sia lunghissimo, per arrivare a fare la loro carriera. Questa scuola sarà integrata al 100% con il team RMU, ma non solo. Cerchiamo e abbiamo già stretto delle partnership con dei team importanti a livello mondiale per piazzare questi ragazzi e fare il loro anno di, chiamarlo per anticantato, dei team blasonati, oltre che nel team RMU. A 360 gradi costruiamo la moto, gli facciamo vedere come la progettiamo, come ragioniamo, facciamo vedere e toccare con mano le cose, faranno delle cose e le metteremo in pratica sia sui banchi prova che sulla pista, quindi una cosa, una bella cosa. Parlavi anche di docenti di alto livello, quindi anche che affrontano tematiche che spesso non sono trattate, come parlavi prima dei cablaggi. Sì, sì, è proprio, noi abbiamo guardato quello che c'è ad oggi e abbiamo cercato di migliorare o aggiungere quelle cose che secondo noi mancano. Una di queste, come ti dicevo, ci sarà un ingegnere aerospaziale per il discorso dei cablaggi, dove passare, come metterli, come farli, perché in una moto che sembra scarna, l'elettronica la fa da padrone, quindi sensori, la centralina, la telemetria, tutto gira attorno al cablaggio e alla centralina, quindi è fondamentale. Abbiamo cercato dei partner che abbiano un'esperienza importante e che stiano ancora lavorando in ambito mondiale, perché così tutte le novità o tutte le cose che ci sono sono ad oggi e parlando appunto con queste persone di questo progetto sono stati tutti entusiasti, quindi sono venuti volentieri e abbiamo messo insieme anche lì una bella squadra per dare un valore aggiunto a questa cosa. Grazie. Grazie.